I'm the realest one that's rapping, oh my god, oh my god, if I, I am a lead, and when they lay me down a rap, I know I was always rapping Salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti dal vostro Dark Chaos 92, oggi siamo in compagnia del signor RDT Bella Bella Ok, oggi vi volevo far vedere dove si trova il tesoro Nascosto, quindi la stellina di laboratorio della latrina Ok, ci imbattiamo, quindi ci buttiamo, ci imbattiamo con questa musichetta molto speciale, speciale E andiamo qui, mettiamo il punto e andiamo in quella posizione Perché è proprio in quella posizione ragazzi, che si trova appunto la stella della missione Segui il tesoro, l'alboratorio della latrina, eccetera, eccetera, eccetera Mi raccomando, tanti like ragazzi, che se arriviamo a 500 like e tanta roba, tanta roba guys Ok, oggi l'ho detto solo una volta, tranquilli, non lo dirò più 300 volte Che abbiamo visto il commento di RDT Ok, il punto preciso si trova qui Eccolo qua ragazzi, eccolo qui Ragazzi, io spero che questa guida vi sia stata d'aiuto, ovviamente a tutti quanti Un bacione in mezzo dal vostro Dark Chaos 92 e anche dal signor RDT Si It's me E noi ci vediamo ad una prossima guida Bella ragazzuoli Bella Ciao Ciao